Ci sono parti del corpo che mostriamo con orgoglio perché sono belle, sensuali e gradevoli all'occhio. Ma ci sono segni che proviamo a nascondere, perché sono antiestetici e non ne andiamo a piedi. Soffri di acne? Hai cicatrici sul viso? Periodi di forte stress hanno lasciato dei brutti segni? Oline ed espressione sul tuo volto? Hai problemi di acne e non vuoi che ti restino i segni? Resta sintonizzato e scoprirai come guardare il mondo con un nuovo volto. Solo chi ha problemi di cicatrici sa quanto sia imbarazzante ricevere un rifiuto a causa di quegli orribili segni sul viso. Milioni di persone hanno problemi di autostima a causa dei propri segni sul volto. Il centro di ricerca dermatologico Eternal Pharma Institute ha elaborato Dermonu, il gel ricostituente per il viso efficace nell'eliminare ogni tipo di imperfezione della pelle. Dermonu è l'unico gel ricostituente Cugre Generum, un complesso speciale che in maniera progressiva e permanente rigenera gli strati della pelle danneggiati. Rende la pelle liscia e morbida senza macchie o cicatrici. Dermonu, risultati concreti visibili in su le tre settimane. Risultati convincenti e permanenti in su le otto settimane. Dermonu, rigenera la tua pelle così potrai esibire il tuo volto migliore. Dermonu, il ricostituente per il viso adatto a ogni tipo di imperfezione della pelle. Acne, cicatrici, segni evidenti e linee di espressione. Dermonu è l'unico prodotto con Regenerum ed elimina in modo rapido, efficace, graduale e permanente qualunque segno sulla pelle. Il gel ricostituente Dermonu svolge diverse funzioni, effettua un micro-peeling non aggressivo, pulisce in profondità, risana la pelle danneggiata e previene la ricomparsa di brufoli, punti neri, macchie e acne. La tripla azione di Dermonu deterge, rigenera e previene. Dermonu, per esibire il tuo volto migliore. Sì, mostra il tuo volto migliore con Dermonu. È molto semplice e piacevole da usare. Basta applicarne una piccola quantità la mattina e la sera. È come una leggera carezza sulla pelle. A chi non piace essere accarezzato, Dermonu dona un'incredibile sensazione di fresco e pulito. Alla seconda applicazione avvertirai un leggero pizzicore. Questo significa che Dermonu sta facendo effetto. Alla fine della terza settimana i risultati saranno sorprendenti e dopo otto settimane otterrai risultati concreti e permanenti. Quando sono iniziati a spuntarmi i brufoli, temevo che poi mi sarebbero rimasti segni e così è stato. Mi sentivo insicura e a disagio. Mi piace chattare e stare in contatto con i miei amici, ma quello che mi piace di più è conoscere ragazze interessanti. Prima il mio problema era che dovevo tenere sempre la webcam spenta perché mi vergognavo dei brufoli, delle cicatrici e dei segni lasciati dall'acne. Usavo tonnellate di trucco, ma non potevo continuare a soffocare i miei pori in questo modo. Non credevo che Dermonu funzionasse sul serio, ma il mio medico mi convinse a provarlo. Solo in un mese ho ottenuto i risultati che volevo. Ora la mia pelle è molto più liscia, morbida e non ho più problemi di acne. Ho risolto tutti i miei problemi in meno di un mese. Non mi vergogno più di tenere la webcam accesa o di chattare con qualcuno perché ora il mio viso è pulito. Mi sento molto più a mio agio, grazie a Dermonu. Sono andata alla radice del problema e l'ho risolto. Se hai macchie sul viso che sembravano permanenti, ordina a Dermonu l'efficace gel ricostituente che ti permetterà di esibire il tuo volto migliore. Oggi puoi avere Dermonu a un prezzo speciale e se chiami subito riceverai una seconda confezione completamente gratis. Ricorda, per esibire il tuo volto migliore, senza macchie, segni o cicatrici sul volto, c'è Dermonu, l'unico prodotto a base dell'esclusivo complesso Regenerum, elaborato dall'Eternel Pharma Institute. Mostra il tuo volto migliore, non perdere questa opportunità. Chiama adesso! Acne, cicatrici, segni e linee d'espressione sono tutti problemi che colpiscono uomini e donne. Se sei ancora giovane e pieno di vita, ma sul volto hai i segni dell'acne. Se sei in età più matura e le imperfezioni sul viso ti fanno sentire insicuro, Se vuoi esibire il tuo viso con disinvoltura, se vuoi mostrare il tuo volto migliore, usa Dermonu, il gel ricostituente per il viso. Dermonu è prodotto dal centro di ricerca Eternel Pharma Institute. Grazie al suo complesso esclusivo Regenerum, ricostruisce, rigenera e rinnova la pelle danneggiata. Dermonu lavora perfettamente su ogni tipo di pelle, secca, grassa o mista. I suoi componenti naturali effettuano un peeling delicato ed efficace. Non contiene sostanze detergenti che seccano ed irricano la pelle. Il principio Regenerum risolve il problema alla radice e ne impedisce la ricomparsa. Ci sono molti casi in cui l'autostima delle persone viene messa a dura prova a causa della presenza di cicatrici o di infezioni, perché diventano una condizione permanente della pelle, specialmente in pazienti adolescenti che soffrono di questo preciso problema. La loro condizione indebolisce la propria autostima. Da ragazza avevo seri problemi di brufoli. All'inizio mi spuntavano soprattutto qui sulla fronte e io li spremevo. Per nasconderli mi sono fatta crescere i capelli, così potevo coprirli un po'. Non sapevo cos'altro fare. Ho provato Dermonu e ho risolto il mio problema. Ha eliminato tutti i segni. Ora la pelle del mio viso è molto più morbida e pulita. Sono fiera del mio aspetto. L'ho anche consigliato a mia figlia Vanessa. Anche a lei stanno iniziando a spuntare i primi brufoli. Non appena ho provato Dermonu, ho pensato che avrebbe funzionato anche con lei e così è stato. Funziona a meraviglia. Siamo davvero soddisfatte di questo prodotto? Dermonu, il ricostituente per il viso adatto a ogni tipo di imperfezione della pelle. Acne, cicatrici, segni evidenti e linee di espressione. Dermonu è l'unico prodotto con Regenerum ed elimina in modo rapido, efficace, graduale e permanente qualunque segno sulla pelle. Il gel ricostituente Dermonu svolge diverse funzioni. Effettua un micro peeling non aggressivo, pulisce in profondità, risana la pelle danneggiata e previene la ricomparsa di brufoli, punti neri, macchie e acne. La tripla azione di Dermonu deterge, rigenera e previene. Dermonu, per esibire il tuo volto migliore. E se chiami subito, riceverai una seconda confezione completamente gratis. Ricorda, per esibire il tuo volto migliore, senza macchie, segni o cicatrici sul volto, c'è Dermonu, l'unico prodotto a base dell'esclusivo complesso Regenerum, elaborato dall'Eternel Pharma Institute. Mostra il tuo volto migliore, non perdere questa opportunità, chiama adesso! Sì, esibisci il tuo volto migliore, non sentirti un emarginato. Rafforza la tua autostima, migliora il tuo aspetto e sentiti più a tuo agio con Dermonu. Questo gel ricostituente e ad azione rapida dà risultati concreti, graduali e permanenti. A proposito di risultati concreti, due mesi fa sono andata a trovare Carolina, vediamo cos'è il successo. Eccoci con Carolina che ha accettato di provare Dermonu. Grazie di averci accolto. Sarò io a ringraziarti se Dermonu funziona? Carolina vuoi dirci qual è il tuo problema? Beh, ecco, il problema è evidente. Questo è il risultato dell'acne giovanile di cui ha sofferto tutta la mia famiglia, mio fratello, i miei zii, le mie zie e tutti. Metto sempre tanto fondotinta. E cos'hai usato fino ad ora? Di tutto. Creme, iniezioni per l'acne, peeling che lasciavano a lungo la mia pelle irritata, ma niente ha funzionato. Sei pronta a provare Dermonu? Eccolo qui. Se mi garantisci che è efficace, lo proverò. Come si usa? Il metodo è molto semplice, ma devi essere costante. Dopo aver lavato il viso con un sapone neutro la mattina, quando ti svegli, e la sera, prima di andare a letto, applica una piccola quantità di Dermonu con un leggero movimento circolare, senza strofinare. Sentirai un leggero e piacevole pizzicore. Questo ti indica che Dermonu sta agendo. E quando vedrò i risultati? Molto presto, ma non essere ansiosa. Ci vediamo in studio. D'accordo, a presto. Eccoci con Carolina che abbiamo già incontrato a casa sua. Ecco com'era prima di provare Dermonu ed ecco com'è oggi. Sorpresa? Il cambiamento è talmente incredibile che non riesco a crederci. I risultati parlano più delle parole. Ecco Carolina prima della cura ed eccola oggi dopo aver usato Dermonu per tre settimane. Dermonu è incredibile. Ora voglio affrontare il mondo con il mio nuovo volto. E tu cosa aspetti? Non nasconderti dietro strati di trucco o, se sei un uomo, dietro una barba che neanche ti piace o portando fastidiose frangette. Ordina subito Dermonu. Chiama adesso e riceverai una seconda confezione di Dermonu completamente gratis. Dermonu non è in vendita nei negozi, quindi puoi acquistarla soltanto grazie a questa speciale offerta televisiva. Cosa aspetti ad esibire il tuo volto migliore? Chiama adesso! L'acne lascia sul viso buchi e cicatrici. Ha lasciato brutti segni anche sul tuo volto? Oggi puoi eliminarli. Mostra il tuo volto migliore con Dermonu, l'efficace gel ricostituente con il principio attivo Regenerum. L'Eternel Pharma Institute ricerca prodotti in grado di rigenerare e rinnovare la pelle danneggiata. Ogni volta che mi presentavo a un casting alla solita storia, tonnellate di correttore per nascondere le cicatrici che avevo sul mio volto. E nonostante tutto mi scartavano sempre. Da quando uso Dermonu lavoro molto di più perché ho un aspetto migliore. Dermonu penetra in profondità, ricostruisce gli strati di pelle danneggiati e le macchie scompaiono. È come avere una pelle nuova. Ora la pelle è pulita. Siamo davvero soddisfatte di questo prodotto? Oggi puoi avere Dermonu a un prezzo davvero speciale e se chiami subito riceverai una seconda confezione in omaggio. Mostra il tuo volto migliore con Dermonu. Chiama adesso! Come madre era dura non avere un rimedio per l'acne di mio figlio, soprattutto perché si tratta di un problema ereditario. Anche il padre ha sofferto di acne. I brufoli gli spuntavano su tutto il viso e quando scomparivano gli lasciavano dei segni. Dopo aver provato molti tipi di creme gli ho consigliato Dermonu. Speravo che funzionasse e così è stato. La differenza è evidente. Il suo viso è molto più pulito, più sano e senza macchie. In meno di un mese abbiamo ottenuto risultati migliore che dopo anni di esperimenti con creme miracolose che non funzionano. Detesto svegliarmi ogni giorno con il terrore di avere un nuovo brufolo e la paura che mi risterà la cicatrice. In ogni famiglia puoi ereditare cose buone e cose cattive. Con l'acne è una battaglia continua che non ti dà tregua. Ecco perché Dermonu è davvero fantastico, rende la tua pelle rigenerata e pulita. Ho meno brufoli ora e l'area in cui avevo delle cicatrici è risanata. Dermonu impedisce a quegli orribili brufoli di rispuntare. È fantastico! Le cicatrici causate dall'acne possono essere piatte, ipertrofiche o sporgenti. Sono tutte curabili. Con una pulizia accurata e facendo attenzione se ne può ridurre la comparsa o perfino eliminarle completamente. Dermonu è il risultato di ricerche dermocosmetiche condotte dall'Eternal Parma Institute che ha scoperto l'esclusivo complesso Regenerum che ricostituisce e rigenera in modo graduale e permanente gli strati danneggiati della pelle. Applica uno strato sottile di Dermonu con un movimento circolare sulla pelle appena lavata e ben asciutta e avvertirai un leggero pizzicore. Questo significa che il prodotto sta agendo. Dermonu esfolia delicatamente lasciando sulla pelle una sensazione di fresco e pulito. Penetrando in profondità ricostruisce gli strati della pelle danneggiati. Tonifica e stila le cicatrici lasciando la tua pelle liscia, morbida e senza macchie. Dermonu per esibire il tuo volto migliore. L'acne lascia orribili segni e buchi sul viso. Ha lasciato dei brutti segni anche sul tuo volto. Farazzatene! Mostra il tuo volto migliore con Dermonu, il gel ricostituente per il viso a base di Regenerum. L'Eternal Parma Institute ha elaborato un prodotto in grado di rigenerare e ricostruire la pelle danneggiata. Quando sono iniziati a spuntarmi i brufoli temevo che poi mi sarebbero rimasti segni e così è stato. Mi sentivo insicura e a disagio. Quando ho sentito parlare di Dermonu non pensavo che potesse dare risultati in un solo mese. Ho ottenuto i risultati che desideravo. Ora la mia pelle è molto più liscia, morbida e anche senza acne. Dermonu penetra in profondità. Ricostruisce gli strati di pelle danneggiati e le macchie scompaiono. È come avere una pelle nuova. Ora la pelle è pulita. Siamo davvero soddisfatte di questo prodotto. Oggi puoi avere Dermonu a un prezzo davvero speciale e se chiami subito riceverai una seconda confezione in omaggio. Mostra il tuo volto migliore con Dermonu. Chiamo adesso. La morte di mio marito ha lasciato molti segni sul mio volto. Per parecchi anni si leggeva la sofferenza sul mio viso. Anche con il trucco non riuscivo a nasconderla. Dermonu ha rigenerato la pelle del mio viso e nello stesso tempo ha ridotto notevolmente la comparsa di altri segni sul viso. Apparire bene mi ha aiutato a guardare avanti. Grazie a Dermonu sento che la mia pelle ora finalmente è ripulita e tonica. Il mio lavoro era terribilmente stressante. Così avevo l'abitudine di toccarmi sempre il viso e di rompermi i brufoli. Soprattutto quelli sulla fronte che una volta aperti lasciano il segno. Ho iniziato a usare Dermonu e guardate la mia fronte, niente più cicatrici. Dermonu è davvero un gel portentoso. L'ho capito subito e i risultati sono visibili in poco tempo. Esistono dei prodotti non aggressivi che detergono in profondità rigenerando la pelle con risultati discreti. Dipende dal tipo di pelle. Esistono trattamenti aggressivi che riducono la comparsa di cicatrici. Il peeling chimico utilizza acidi o materiali abrasivi per rimuovere strati di pelle. La dermoabrasione prevede anestesia locale e un lungo ricovero. Il laser dà buoni risultati ma con rischio di scolorimento per le persone scure e rischio di macchie per quelle chiare. Sono Walter Leon e come vedete ho i segni delle cicatrici causati dall'acne. Mi hanno fatto molto penare. A volte quando mi presentavano una donna e volevo salutarla con un bacio lei si tirava indietro e allungava la mano come se fosse contagioso. Questo mi faceva sentire un imbarazzo. Era difficile nascondere quella sensazione di umilazione. Finora ho provato davvero di tutto ma niente ha funzionato. Questo era Walter prima di iniziare il trattamento con Dermonu. L'abbiamo rivisto dopo tre settimane e abbiamo notato una differenza. Ma non era ancora definitiva. Dermonu garantisce in sole tre settimane risultati visibili ma è un trattamento graduale che dà risultati permanenti dopo otto settimane. Oggi Walter ci mostra i risultati. Com'è andata? Tu che ne dici? C'è una bella differenza. Assolutamente. Mi sento rinato. Sai come ci si sente a camminare per strada con quei brutti segni sul viso? Tu non ci sei passata ma io sì ed è davvero orribile. Beh devi essere fiero del risultato. Dopo le prime due settimane ho notato una differenza. Ormai lo uso da due mesi e sono molto soddisfatto. Siamo contenti per te e per le centinaia di persone che utilizzano Dermonu in tutto il mondo. Tra un attimo ti mostreremo altre persone che ora hanno un aspetto migliore grazie a Dermonu. Non andatene. E nel frattempo chiama e approfitta della nostra offerta speciale. Ordina Dermonu e riceverai una seconda confezione in omaggio. Dermonu. Per esibire il tuo volto migliore. Se hai macchie sul viso che sembravano permanenti, ordina a Dermonu l'efficace gel ricostituente che ti permetterà di esibire il tuo volto migliore. Oggi puoi avere Dermonu a un prezzo speciale e se chiami subito riceverai una seconda confezione completamente gratis. Ricorda per esibire il tuo volto migliore senza macchie, segni o cicatrici sul volto c'è Dermonu. L'unico prodotto a base dell'esclusivo complesso Regenerum elaborato dall'Eternel Pharma Institute. Mostra il tuo volto migliore, non perdere questa opportunità, chiama adesso! Se vuoi diventare da così e così in sole tre settimane e poi così in soli due mesi, usa Dermonu ogni giorno. È molto semplice, basta lavare il viso delicatamente con un sapone neutro, asciugare bene il volto e applicare un po' di Dermonu con un movimento circolare sull'area interessata. Avvertirai un piacevole pizzicore, segno che il Regenerum sta iniziando a fare il suo lavoro. Dopo tre settimane la tua pelle inizierà a riconforsi e dopo due mesi si rigenererà. Tutte quelle imperfezioni come le cicatrici causate dall'acne e le linee di espressione scompariranno. Mostra il tuo volto migliore con Dermonu, frutto della ricerca dell'Eternel Pharma Institute. Dermonu, il ricostituente per il viso adatto a ogni tipo di imperfezione della pelle. Acne, cicatrici, segni evidenti e linee di espressione. Dermonu è l'unico prodotto con Regenerum ed elimina in modo rapido, efficace, graduale e permanente qualunque segno sulla pelle. Il gel ricostituente Dermonu svolge diverse funzioni, effettua un micro-pilling non aggressivo, pulisce in profondità, risana la pelle danneggiata e previene la ricomparsa di brufoli, fonti neri, macchie e acne. La tripla azione di Dermonu deterge, rigenera e previene. Dermonu, per esibire il tuo volto migliore. Sì, mostra il tuo volto migliore con Dermonu. Chiama ora, inizia subito ed otterrai risultati visibili in sole tre settimane. E risultati definitivi e permanenti dopo soli due mesi. È un'offerta speciale per una persona speciale come te. Ci sono parti del corpo che mostriamo con orgoglio perché sono belle, sensuali e gradevoli all'occhio. Ma ci sono segni che proviamo a nascondere perché sono antiestetici e non ne andiamo a piedi. Sono Walter Leon e come vedete ho i segni delle cicatrici causati dall'acne. Questo è il risultato dell'acne giovanile di cui ha sofferto tutta la mia famiglia. Ho provato di tutto, ma niente ha funzionato. Dermonu, il ricostituente per il viso adatto a ogni tipo di imperfezione della pelle. Acne, cicatrici, segni evidenti e linee d'espressione. Dermonu è l'unico prodotto con Regenerum ed elimina in modo rapido, efficace, graduale e permanente qualunque segno sulla pelle. I risultati che ho ottenuto dopo otto settimane sono incredibili. Dopo tre settimane ho visto dei miglioramenti e dopo due mesi ecco il mio nuovo volto. Il 90% di risultati concreti e visibili in sole tre settimane e risultati definitivi e permanenti in due mesi. Dermonu esfolia delicatamente, penetra in profondità, rigenera e rassoda la pelle eliminando cicatrici o altri segni. È adatto a ogni tipo di pelle ed è completamente ipoallergenico. Dermonu è il risultato delle ricerche dermocosmetiche condotte dall'Eternel Parma Institute. La tripla azione di Dermonu deterge, rigenera e previene. Mi sono sbarazzata delle cicatrici. Il mio viso è molto più pulito. Lascia la tua pelle rigenerata e pulita. Non mi vergogno più di tenere la webcam accesa quando chatto perché ora il mio viso è pulito. L'ho consigliato a mia figlia Vanessa. Funziona meraviglia. Siamo soddisfatte di questo prodotto. Per una pelle liscia, morbida e senza cicatrici, ordina Dermonu a un prezzo speciale. E se chiami subito, riceverai una seconda confezione gratis. Sbarazzati delle imperfezioni. Cambia e mostra il tuo volto migliore. Usa Dermonu, il gel ricostituente dell'Eternel Parma Institute. Approfitta di questa speciale offerta. Due confezioni al prezzo di una. Non perdere questa opportunità. Chiama adesso. Dermonu agisce su tre tipi di cicatrici. Piatte, sporgenti e ipertrofiche. Regenerum è il componente attivo essenziale di Dermonu ed è il risultato di molti anni di ricerca condotti dall'Eternel Parma Institute. Il principio Regenerum rigenera e ricostruisce le zone della pelle danneggiate, qualunque sia il tipo di imperfezione, sia che si tratti di cicatrici sporgenti, piatte o ipertrofiche. Dermonu, con il principio attivo Regenerum, deterge, rimuove la pelle danneggiata e penetra in profondità, rassodando la pelle ed eliminando le cicatrici. Niente più trattamenti aggressivi. Niente più tonnellate di trucco. Niente più spiacevoli sensazioni di vergogna e di imbarazzo. Dermonu, il ricostituente per la pelle ad azione 24 ore. Affronta il mondo con il tuo vero volto. Pratico molti sport. Mi piace andare a correre tutti i giorni e giocare a tennis. Sudo molto e sul viso mi compaiono molti brufoletti. A volte si infettano, immagino per il sudore. Adesso uso Dermonu tutti i giorni e non ho più i brufoli. Ogni volta che mi presentavo a un casting è la solita storia. Tonnellate di correttore per nascondere i brufoli che avevo sul volto. E nonostante tutto quel trucco, ai casting mi scartavano sempre. Da quando uso Dermonu la mia pelle è migliorata molto. Non devo più usare il correttore e lavoro molto di più perché ho un aspetto migliore. È davvero fantastico. L'acne lascia orribili segni e buchi sul viso. Ha lasciato dei brutti segni anche sul tuo volto. Sbarazzatene. Mostra il tuo volto migliore con Dermonu, il gel ricostituente per il viso a base di Regenerum. Sono Walter Leon e come vedete ho i segni delle cicatrici causati dall'acne. Questo è il risultato dell'acne giovanile. Ho provato di tutto, ma niente ha funzionato. Dermonu con il principio Regenerum elaborato dall'Eternel Pharma Institute Regenerum rigenera e ricostituisce la pelle danneggiata. Ho visto dei miglioramenti e dopo due mesi ecco il mio nuovo volto. I risultati che ho ottenuto dopo otto settimane sono incredibili. Dermonu penetra in profondità, ricostruisce gli strati di pelle danneggiati e le macchie scompaiono. È come avere una pelle nuova. Ora la pelle è pulita. Siamo davvero soddisfatte di questo prodotto. Oggi puoi avere Dermonu a un prezzo davvero speciale e se chiami subito riceverai una seconda confezione in omaggio. Mostra il tuo volto migliore con Dermonu. Chiama adesso! Solo chi ha problemi di cicatrici sa quanto sia imbarazzante ricevere un rifiuto a causa di quegli orribili segni sul viso. Milioni di persone hanno problemi di autostima a causa dei propri segni sul volto. Il centro di ricerca dermatologico Eternal Pharma Institute ha elaborato Dermonu. Il gel ricostituente per il viso efficace nell'eliminare ogni tipo di imperfezione della pelle. Dermonu è l'unico gel ricostituente con Regenerum, un complesso speciale che in maniera progressiva e permanente rigenera gli strati della pelle danneggiati. Rende la pelle liscia e morbida senza macchie o cicatrici. Dermonu risultati concreti visibili in sole tre settimane. Risultati convincenti e permanenti in sole otto settimane. Dermonu rigenera la tua pelle così potrai esibire il tuo volto migliore. Dermonu, il ricostituente per il viso adatto a ogni tipo di imperfezione della pelle. Acne, cicatrici, segni evidenti e linee di espressione. Dermonu è l'unico prodotto con Regenerum ed elimina in modo rapido, efficace, graduale e permanente qualunque segno sulla pelle. Il gel ricostituente Dermonu svolge diverse funzioni, effettua un micro-peeling non aggressivo, pulisce in profondità, risana la pelle danneggiata e previene la ricomparsa di brufoli, punti neri, macchie e acne. La tripla azione di Dermonu deterge, rigenera e previene. Dermonu, per esibire il tuo volto migliore. Sì, mostra il tuo volto migliore con Dermonu. È molto semplice e piacevole da usare. Basta applicarne una piccola quantità la mattina e la sera. È come una leggera carezza sulla pelle. A chi non piace essere accarezzato, Dermonu dona un'incredibile sensazione di fresco e pulito. Alla seconda applicazione avvertirai un leggero pizzicore. Questo significa che Dermonu sta facendo effetto. Alla fine della terza settimana i risultati saranno sorprendenti e dopo otto settimane otterrai risultati concreti e permanenti. Quando sono iniziati a spuntarmi i brufoli, temevo che poi mi sarebbero rimasti segni e così è stato. Mi sentivo insicura e a disagio. Mi piace chattare e stare in contatto con i miei amici, ma quello che mi piace di più è conoscere ragazze interessanti. Prima il mio problema era che dovevo tenere sempre la webcam spenta perché mi vergognavo dei brufoli, delle cicatrici e dei segni lasciati dall'acne. Usavo tonnellate di trucco, ma non potevo continuare a soffocare i miei pori in questo modo. Non credevo che Dermonu funzionasse sul serio, ma il mio medico mi convinse a provarlo. Solo in un mese ho ottenuto i risultati che volevo. Ora la mia pelle è molto più liscia, morbida e non ho più problemi di acne. Ho risolto tutti i miei problemi in meno di un mese. Non mi vergogno più di tenere la webcam accesa o di chattare con qualcuno perché ora il mio viso è pulito. Mi sento molto più a mio agio, grazie Dermonu. Sono andata alla radice del problema e l'ho risolto. Ci sono parti del corpo che mostriamo con orgoglio perché sono belle, sensuali e gradevoli all'occhio. Ma ci sono segni che proviamo a nascondere, perché sono antiestetici e non ne andiamo a piedi. Sono Walter Leon e come vedete ho i segni delle cicatrici causati dall'acne. Questo è il risultato dell'acne giovanile di cui ha sofferto tutta la mia famiglia. Ho provato di tutto, ma niente ha funzionato. Ti presentiamo Dermonu, ricostituente per il viso adatto a ogni tipo di imperfezione della pelle. Acne, cicatrici, segni evidenti e linee d'espressione. Dermonu è l'unico prodotto con Regenerum. Rigenera e ricostituisce la pelle danneggiata. I risultati che ho ottenuto dopo 8 settimane sono incredibili. Dopo 3 settimane ho visto dei miglioramenti e dopo 2 mesi ecco il mio nuovo volto. Il 90% di risultati concreti e visibili in sole 3 settimane e risultati definitivi e permanenti in 2 mesi. Dermonu esfolia delicatamente, penetra in profondità, rigenera e rassoda la pelle eliminando cicatrici o altri segni. È adatto a ogni tipo di pelle ed è completamente ipoallergenico. Dermonu è il risultato delle ricerche dermocosmetiche condotte dall'Eternel Pharma Institute. La tripla azione di Dermonu deterge, rigenera e previene. Lascia la tua pelle rigenerata e pulita. Non mi vergogno più di tenere la webcam accesa quando chatto perché ora il mio viso è pulito. L'ho consigliato a mia figlia Vanessa, funziona meraviglia, siamo soddisfatte di questo prodotto. Per una pelle liscia, morbida e senza cicatrici, ordina Dermonu a un prezzo speciale. E se chiami subito riceverai una seconda confezione gratis. Sparazzati delle imperfezioni, cambia e mostra il tuo volto migliore. Usa Dermonu, il gel ricostituente dell'Eternel Pharma Institute. Approfitta di questa speciale offerta, due confezioni al prezzo di una. Dermonu, una macchina del tempo per il tuo viso. Elimina ogni tipo di imperfezione e ridona giovinezza alla tua pelle. Dermonu, il gel ricostituente ad azione 24 ore per esibire il tuo volto migliore. Alcuni segni possono essere permanenti, sta a te eliminarli. Usa Dermonu a base di Regenerum, un gel ricostituente per la pelle. Dermonu garantisce risultati visibili già dopo le prime tre settimane e permanenti dopo soli due mesi. Per esibire il tuo volto migliore, chiama subito e approfitta di questa offerta speciale. Due confezioni di Dermonu al prezzo di uno. Non perdere questa opportunità. Chiama adesso!